Corre per il Parlamento nel Collegio Uninominale in Veneto 1, Giorgia Andreuzza, onorevole uscente della Lega. Si presenta per la coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Coraggio Italia. Ha maturato negli anni un'esperienza politica, prima in Regione e poi in Parlamento, che può fare ora la differenza. Gli onorevoli uscenti hanno visto la pandemia, i problemi legati ad esse e le difficoltà da essi derivate. Ora i problemi saranno diversi, ma ugualmente tosti. Siamo in un periodo in cui una guerra al confine europeo sta cambiando l'economia europea, avvicinandoci a una crisi economica che sembra senza uguali e che sta mettendo in serie difficoltà numerose aziende che di conseguenza si rifletterà sulle famiglie. Se ad altri lo scenario può far tremare le gambe, a Giorgia Andreuzza no. Con il bagaglio dell'esperienza passata e forte della consapevolezza di dover essere immersa nel territorio per poter capire le realtà e portarne le istanze a Roma, Giorgia Andreuzza, seppur non chioggiotta, si sente adottata da Chioggia. Ne conosce i problemi e sa che, facendo da tramite tra territorio e governo, può portare avanti la ricerca di soluzioni ai problemi che affliggono la città. Lo scoglio più alto sarà portare la gente al voto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!